L'11 luglio la Union presenta la partita del sorriso a Torre del Greco a favore dei bambini ucraini. Daremo finalmente un calcio alla guerra anche se in senso metaforico speriamo tutti noi con questo piccolo gesto di dare un aiuto, un sostegno a tutti coloro che stanno soffrendo per questa maledetta guerra. 11 luglio stadio di Torre del Greco partita del sorriso per dare un calcio alla guerra. Aiutiamo i bambini ucraini, facciamo sentire loro il nostro sostegno e il nostro amore. Non mancate! Ciao amici, vi aspettiamo numerosi ad un evento magnifico perché la Union presenta la partita del sorriso. L'11 luglio a Torre del Greco, non mancate! Daremo un calcio alla guerra e gli incassi verranno devoluti ai bambini dell'Ucraina. Vi raccomando, vi aspettiamo! Cari amici, l'11 luglio vi aspetto allo stadio di Torre del Greco con Union per la partita del sorriso. Diamo un calcio alla guerra e aiutiamo i bambini ucraini. Vi aspetto! Bella raga, ci vediamo l'11 luglio a Torre del Greco in occasione della partita del sorriso organizzato dalla Union a favore dei bambini ucraini. Mi raccomando, diamo un calcio alla guerra e facciamolo insieme. Ciao, ci vediamo lì! L'11 luglio, grazie alla Union, a Torre del Greco si terrà la partita del sorriso. Noi siamo pronti a scendere in campo in favore dei bambini ucraini, ma soprattutto per dire no alla guerra. E per fare questo abbiamo bisogno del vostro aiuto, abbiamo bisogno di voi, quindi non mancate! 11 luglio, anche noi ci saremo a Torre del Greco. La Union organizza una partita del sorriso per i bambini dell'Ucraina. Mi raccomando, vogliamo una partecipazione fatta bene e sostanziosa per la beneficenza. Numerosi, vi aspettiamo! Vi aspettiamo, Roberto Oliveri e Andrea Preti. Un abbraccio grande! Lunedì, 11 luglio, Torre del Greco, Stadio Amerigo Liguori, ci sarà una partita di beneficenza. Artisti contro imprenditori. Si era solo una fatta sportiva, fai io per tutto oggi, è stata la casa, io avevo a mangiare la pizza, la ferro e londona, però siccome è una cosa di beneficenza, vi prego di partecipare. Stadio Amerigo Liguori, 11 luglio, lunedì, attore del Greco. Capone, la verità, per come giochiamo a pallone noi artisti, facciamo rire, vieni giutto sommato, non è che cambiamo ancora, aspetto a noi, ciao! Ragazzi, ci vediamo l'11 luglio allo stadio di Torre del Greco per dare tutti insieme un calcio alla guerra. Ci sarò anch'io, sono Giovanni Buselli. Si può essere attore di cinema, si può essere attore di cabaret, si può essere attore di teatro, ma soprattutto si può essere a Torre del Greco, l'11 luglio alle 20.30 allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco per la partita del sorriso, dove daremo un calcio alla guerra. Non è che verrà proprio una guerra e noi le daremo un calcio, è impossibile, metaforicamente dare stadio Amerigo Liguori, Torre del Greco, 20.30, partita del sorriso, ci sono anch'io. Allora, volevo invitarvi tutti lunedì 11 luglio alle ore 21 allo stadio di Torre del Greco Amerigo Liguori per la partita del sorriso, diamo un calcio alla guerra, quindi una cosa molto importante. Ci saranno tanti attori famosi, tanti comici famosi, tanti attori comici famosi, l'unico che non è nessuno, sono chi. Quindi, mi raccomando, venite in tanti, venite a sostenermi, così la gente che sta alla risuovata pago, quanti sostenitori che c'ha. Poi, quando finisce la partita, papà, a una volta. Ciao a tutti, diamo un calcio alla guerra. La partita del sorriso, che si darà a Torre del Greco, l'11 luglio alle ore 20.30, voluto e organizzato da Cilotollo. Ci saranno tantissimi ospiti, tanti artisti a livello nazionale, di livello nazionale, tra cui ci sono anche io e tanti altri amici. Vi aspettiamo in tanti. Un bacio da Davide Marotta. Ciao. Ciao a tutti, ci vediamo l'11 di luglio allo stadio Vittorio del Greco per dare un calcio alla guerra. Ci sarò anch'io, 10 peperini, domani. Ciao a tutti, sono Vincenzo Messina e vi aspetto tantissimi allo stadio Vittorio del Greco l'11 di luglio per dare un calcio alla guerra. Io vi sarò e vi aspetto. Ciao a tutti, sono Patrizio Oliva, vi aspetto sabato 11 luglio alle ore 20.30 allo stadio Amerigo Liguone di Torre del Greco per la partita del sorriso, organizzata dalla UIA. Ciao, vi aspetto. Ciao, vi aspetto.